La Sindone, come è arrivata a Torino? Perché si trova proprio in questa città? La Sindone per alcuni secoli è stata proprietà della famiglia Savoia. I Savoia acquisirono la Sindone da una nobile donna che l'aveva ereditata da suo nonno. Il nonno, a metà del 1300, disse di avere la Sindone, la vera Sindone di Gesù. Era un cavaliere crociato, si chiamava Geoffroy de Charny, e circa cent'anni dopo, nel 1453, la Sindone venne data da questa nobile donna alla famiglia Savoia. La famiglia Savoia portò la Sindone a Chambery, nel castello della sua famiglia, in Savoia, e poi l'ha trasferita a Torino. È dal 1578 che si trova a Torino. Ma prima cosa sappiamo dei secoli precedenti? Questo cavaliere crociato non rivelò come l'aveva avuta. Però la moglie, Jean de Vergier, era una discendente di un altro crociato, che era stato a Costantinopoli durante il saccheggio della Quarta Crociata. Nel 1204 questo nobile, Oton de La Roche, si trovava proprio nella zona dove sorgeva la chiesa di Santa Maria delle Blacherne. E abbiamo la testimonianza di un altro crociato, Robert de Charny, che dice che in questa chiesa era esposta alla Sindone, in verticale, si vedeva tutta la figura del corpo di Gesù. Quindi è un riferimento molto importante. Ma come e quando la Sindone era arrivata a Costantinopoli? Abbiamo notizia dell'arrivo di un panno con l'impronta di Gesù, che i bizantini chiamavano Mandilion, cioè fazzoletto, sembrerebbe un panno piccolo da questo nome. Ecco, questo panno è arrivato nel 944 dal sud-est della Turchia, da Idessa. Ma questo panno era veramente un panno piccolo o nascondeva qualcosa? Perché c'è un testo che dice che questo panno era tetratiplo, cioè era piegato quattro volte. Quindi si può ricostruire anche, con un'ipotesi molto verosimile, che fosse la Sindone ripiegata in modo da far vedere solo il volto. Nel 1978, quando furono fatte delle analisi molto complesse, molto vaste sulla Sindone da un gruppo di scienziati americani e di scienziati europei, fu fatta una foto a luce radente della Sindone e si videro proprio le tracce di queste antiche pieghe. Dunque la Sindone può essere stata piegata e conservata in modo che si vedesse solo il viso. Ma era comunque esposta di rado, non era frequente poter vedere la Sindone. Era una visione riservata a pochi fortunati che avevano questa possibilità. Quindi potrebbe essere stata portata da Idessa, dal sud-est della Turchia, fino a Costantinopoli. Ci sono fonti islamiche addirittura che parlano della presenza Idessa, in questa cittadina del sud-est della Turchia, di un panno con l'impronta di Cristo. Come può essere arrivato lì questo panno? Ci sono anche qui fonti islamiche che dicono che era stato portato in un primo tempo a Efeso, poi a Damasco e ad Antiochia. A Efeso certo è interessante perché noi sappiamo che San Giovanni con la Madonna visse ad Efeso e Giovanni insieme a Pietro trovarono la Sindone nel sepolcro. Nel sepolcro vuoto c'era la Sindone ormai senza il corpo di Gesù. Questo lenzuolo che fine ha fatto? C'è anche una tradizione, ci sono delle fonti, che parlano di un altro apostolo, San Giuda Taddeo, che avrebbe portato questo panno al re di Idessa che era malato. Il re guarì e si convertì tutta la città al cristianesimo. Poi la città ritornò al paganesimo e questo panno venne nascosto fino poi a ritrovarlo nel VI secolo. Ecco, quello che è interessante è che mentre nei primi secoli il volto di Gesù è un volto raffigurato in maniera generica, in berbe, è come un giovane a significare l'eternità di Dio, c'è però invece un cambio brusco più o meno a metà del IV secolo, quando dopo l'editto di Costantino, dopo la libertà data ai cristiani, comincia a questo punto a circolare la notizia che c'è questo prezioso volto di Cristo su un panno conservato a Idessa. Può essere la sindone? Ecco, qui l'indagine si fa ancora più interessante e certamente se la sindone, come noi pensiamo, è stato proprio questo panno nascosto a Idessa, noi possiamo in questo modo ricostruire, per sommi capi naturalmente, quelle che sono le tappe principali della sindone. Ma della sindone dobbiamo parlare anche sotto altri aspetti molto interessanti e lo faremo nelle prossime puntate.